Si è fatta avanti con una telefonata ai carabinieri, la donna che ieri pomeriggio a Sapri ha investito con il suo sub la bici elettrica con in sella una signora del posto. Si tratterebbe di una turista che avrebbe anche dichiarato di non essersi accorta di aver provocato il sinistro ed è per questo che non si è fermata per i soccorsi. Tutto è accaduto al bivio di località San Francesco. Chi ha assistito alla scena ha subito allertato il 118. Sul posto è giunta un'ambulanza della New Geo che ha trasferito la donna presso il locale ospedale. E' stata dimessa poco dopo, ha riportato una ferita lacero contusa alla testa. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione e la polizia urbana. Bici e SUV hanno attraversato il lungomare e poi hanno svoltato al bivio di San Francesco dove si è consumato l'incidente. La notizia del sinistro e del mancato soccorso si è subito diffusa ed è arrivata anche all'orecchio della donna alla guida dell'auto pirata. Ai carabinieri avrebbe dichiarato di aver appreso dell'incidente ed è per questo che li ha contattati perché lei non si era accorta di quanto aveva provocato. L'indagine è in corso e la responsabile dell'incidente, anche se si è fatta avanti spontaneamente, rischia di dover rispondere di più di un reato.